Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Vediamo se hai migliorato un po' il tuo giapponese. Allora, come si dice grazie? Arigato! Cosa faresti con questi tre ingredienti? Tereki! Bravo! E come si dice agnello in giapponese? Agne-du-sa! Aio! Andiamo a farci una bella tempurina, dai! Allora, tre cucchiai di farina di riso, ma i 300 e una bella birra ghecciata, eh? Aspetta, si spengono. Mettiamo via la macchina e ci mettiamo dentro i carciofini, eh? Li andiamo a benedire nella tempurina. Olio ben caldo, eh? Caldo l'olio. Sayonara! Sai, c'è un detto di raponese che dice coi-to-co-to. Meglio un carciofo in più che uno in meno. Una bella stella ninja. Metti anche un po' di timo. Un po' di olio ancora. Devi sempre piccare il naso dei miei piatti. Che belle sono! Sono perfetti! Ci siamo, eh? Andiamo a impiattare, va! La fogliolina di mirto. Hai visto? Gran colpo di cu. Mino! Cina! Anzi, no, è giampone. Di-du-di-du-du-du-di. E allora? Giusto! hospital- Regiocia ex franch Shaw. La partita è gi Kash. Adesso di avervi Fucking. Ed fotorrogi sa seguito la studio.